e aprire un piano chiaro con il commissario Conti. Io l'ho chiamato, ormai saranno passati 15 giorni, sollecitando una delle risposte nell'intervento per quanto riguarda la sanità della nostra città e per quanto riguarda Lidi, mi ha risposto, io faccio solo un lavoro tecnico, parlate con i ministri e con le pari realtà. In realtà sto constatando che non è così, sto constatando che il seno Conti sta prendendo delle decisioni molto gravi, molto pesanti, in particolare quello di bloccare i padriamenti qui per quanto riguarda Lidi e questo non è ammissibile. Adesso questo lo vorrò, cercheremo di fare in modo che ci sia un ordine del gioco da parte del Consiglio Comunale per sospendere l'Imu dei vostri istituti per andare ad avere risorse fresche e per fronteggiare le emergenze. Questo è quello che noi possiamo fare, però mi sono impegnato qua nell'Assemblea a stare al vostro piano, io venerdì incontrerò il Ministro della Salute per chiedere una soluzione per Lidi e cercherò di avermi incontro anche con voi. Vi pregherei di non andare avanti con la scioglera fama in attesa di questi incontri. Grazie.